Buon pomeriggio a tutti e buon 25 aprile. Potevamo immaginarci di essere in tanti posti a fare tante cose e invece siamo qui chiusi in casa anche oggi. Magari qualcuno ha visto su alcune foto mandatemi in mezzo ai boschi a fare le passeggiate. Noi invece questo pomeriggio vorremmo concludere le parole di Gesù in croce. Vi lascio con l'ultima che è l'ultimissima quando Gesù dice è compiuto che secondo la nostra interpretazione molto personale vuol dire è tutto finito. In realtà no vuol dire non è la fine ma il compimento cioè tutto quello per cui io sono venuto al mondo adesso è arrivato alla fine. Finalmente io ho vinto la morte. Con la mia morte ho dato la risurrezione e allora saluta questo mondo perché noi ci ricordiamo che il primo incontro che abbiamo fatto negli esercizi spirituali aveva questo titolo che accompagnava tutta la settimana. Avendo amato i suoi fino alla fine, avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Ecco quello che Gesù voleva dire in quel momento e cioè Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché il mondo non sia condannato ma salvato. Allora il compimento dell'amore è ad essere affidato alle nostre mani e ciascuno di noi al termine della sua vita è come se consegnasse la sua vita nelle mani di Dio dicendo tutto è compiuto. Quello che dovevo fare ho fatto. Gesù ce l'ha detto chiaramente dall'alto della croce. Noi cerchiamo adesso di scegliere alcuni personaggi. Alcuni sono persone che non conosciamo. Qualcuno c'è invece che conosciamo molto bene. Per esempio Etti Illesum. il 7 settembre 43 con il padre, la madre e il fratello Miccia fu caricato sul treno dei deportati per Auschwitz. Ormai la sua vita era finita non c'era più nessuna speranza ma prima di arrivare a destinazione nel campo di concentramento butta una lettera, una cartolina dal finestrino poi raccolta e spedita dai contadini le cui poche parole condensano il suo straordinario testamento spirituale. Gesù aveva detto tutto è compiuto. Il testamento spirituale di questa ragazza è abbiamo lasciato il campo cantando. Andava a morire ma la sua vita era la testimonianza della gioia. Abbiamo lasciato il campo cantando. E poi uno studente italiano, Giancarlo Pöcher Passavalli, studente universitario, fucilato a erba il 21 dicembre del 43. Questo è un po' il suo testamento. Muoio per la mia patria. Oggi siamo il 25 aprile. Abbiamo questa bellissima testimonianza. Muoio per la mia patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serve ai miei fratelli e compagni. E poi lancia un messaggio ai giovani. Voi giovani d'Italia seguite la mia via e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel costruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano e non pensano che l'uccidersi tra fratelli non potrà produrre mai la concordia. È un messaggio molto bello questo in un momento come questo in cui anche a livello politico facciamo fatica a mettere insieme le nostre situazioni. Non siamo capaci di trovare insieme la strada per uscire anche da questa situazione di sofferenza. È lui che nel 1943 dice che dobbiamo imparare a dialogare assieme. Non si possono fare la guerra fratelli tra fratelli se vogliamo salvare l'Italia. Questo è un monito che arriva oggi in modo particolare anche ai nostri politici. Il terzo personaggio di cui vorrei farvi conoscere il testamento è Paolo VI, quel grande arcivescovo di Milano che poi è diventato Papa e il testamento è datato il 30 giugno 1965. Voi sapete che il testamento di Paolo VI è un gioiellino. Se qualcuno vuole andare vado su internet e scelga il testamento di Paolo VI e lo leggerà tutto. Noi non possiamo leggerlo tutto però è molto bello. Dinanzi alla morte, al totale e definitivo distacco dalla vita presente, sento il dovere di celebrare il dono, la fortuna, la bellezza, il destino di questa stessa fragile esistenza. Quest'uomo che ha dovuto affrontare d'un monaco la vita di arcivescovo di Milano, questo uomo che ha dovuto affrontare il peso di portare tutta la Santa Chiesa di Dio, al termine della sua vita dice voglio celebrare il dono, la bellezza, il destino di questa vita che ho vissuto. Signore ti ringrazio che mi hai chiamato alla vita e anche orpiù facendomi cristiano mi hai rigenerato e destinato alla pienezza della vita e poi dà delle informazioni molto belle. Voi sapete che allora il Papa aveva una sepoltura grandissima eccetera. Lui invece dice raccomando vivamente di disporre convenienti suffragi e per generose elemosine per quanto è possibile. La tomba amerei che fosse nella vera terra con umile segno che indichi luogo e inviti a cristiana pietà. E di fatti da allora non c'è più il sarcofago di Paolo VI ma c'è la tomba in terra. Poi dopo gli altri papi l'hanno seguito ma lui ha avuto questa intuizione io sono un cristiano ringrazio Dio di avermi messo in questa terra voglio ritornare alla terra. E poi dice chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica chiamando ancora una volta su di essa la divina bontà. E poi fa la benedizione a Roma specialmente, a Milano, a Brescia e in modo particolare alla terra santa che lui aveva visitato. E credo che in questo momento ancora una volta dobbiamo dire questi personaggi hanno una profezia straordinaria, ancora una volta dobbiamo dire ha centrato un altro problema che non riusciamo a risolvere, la pace e la tranquillità nella terra santa. Non riusciamo ad andare d'accordo, non riusciamo a trovare il modo di convivere, c'è sempre la guerra. Ecco Paolo VI che prima di morire dice benedico Milano, Brescia, Roma eccetera ma soprattutto la terra santa, la terra di Gesù dove fui pellegrino di fede e di pace. A questa terra uno speciale benedicente saluto. E l'ultimo testimone è un prete della nostra diocesi, presidente della commissione per i diritti umani in Salvador. No scusate non era lui, è Giovanni Barbareschi, sacerdoti ambrosiano tra i ribelli per amore, morto nel 2018. Dice quando muore torno alla casa del padre felice ed entusiasta di quella meravigliosa avventura che è stata la mia vita. Essere prete è stato tutto per me. Anche qui vedete che bello. Noi viviamo in un tempo in cui discutiamo il prete deve sposarsi, il prete non deve sposarsi, la solitudine del prete, ma perché? E questo prete che dice è stato una cosa spettacolare. Per me essere prete è tutto e vi prego di credere che è vero. Essere prete è una delle cose più belle di questo mondo. E dice ancora a quanti mi hanno conosciuto e seguito nelle molteplici modalità del mio ministero sacerdotale vorrei affidare la mia ultima parola. Ricordate sempre che la vita, questa nostra vita umana e banale di tutti i giorni, è un dono meraviglioso perché è una possibilità di amore e di libertà. Non la vita che ci costruiamo, non tutte le ricchezze che potremmo avere. La vita, così com'è, banale di tutti i giorni. La vita che ci permette di fare tutte le cose ogni giorno magari allo stesso modo. Noi viviamo adesso in un tempo in cui le tante cose che facevamo quotidianamente non riusciamo più a farle, non riusciamo più a viverle. E allora ci viene da pensare che vita è questa. La vita banale di tutti i giorni è un dono meraviglioso perché è una possibilità infinita di amore e di libertà. Quando in alcuni momenti di solitudine umana e di grazia si intuisce la grandezza della vita, allora nel profondo del tuo io senti nascere la gioia. La gioia di essere una persona libera, la gioia di poter rispondere a un amore gratuito. Allora concludeva così il suo testamento. Ricordate questo di me perché questo solo avrei voluto dirvi con tutta la mia vita e con il mio sacerdozio. Perdonatemi se non ci sono riuscito, ci sono riuscito male. Vi ringrazio amici e vi aspetto. Il suo messaggio era proprio questo. Impariamo a valorizzare la nostra vita banale come sia perché è la più bella di questo mondo ed è quella che il Signore Dio ci ha regalato da vivere. Ecco abbiamo terminato un po' queste sette parole che ci hanno impegnato questa settimana. Adesso cominciamo a buttare avanti gli occhi al mese di maggio. Tra meno di una settimana noi inizieremo il mese di maggio dedicato alla Madonna. Poi ad agio ad agio vi farò sapere anche il programma e gli orari del nostro rosario tutti i giorni in modo che possiamo pregare assieme. Però mi sta venendo una bellissima idea e cioè che ci sia un piccolo momento tutti i giorni in cui io ho visto un libretto molto bello in cui viene presentata un'icona bizantina greco-ortodossa sulla Madonna spiegando qual è il significato di questa icona. Ce ne sono una per ogni giorno del mese di maggio. Allora vorrei fare questa cosa tutti i giorni, presentarvi questa paginetta, questo momento di riflessione su una icona bellissima e dire 10 Avemarie. Perché? Perché chi può dire il rosario lo dirà. Chi invece dice ma no 50 Avemarie sono troppe non ce la faccio, poi mi addormento, non sono abituato, non so i misteri. Ecco io proporrò tutti i giorni assieme a questa spiegazione una decina della corona del rosario in modo che ognuno potrà pregare come vuole. Poi troveremo tutti ognuno di noi il tempo necessario per fare altre cose. Magari cominceranno ad aprire un po' la possibilità di muoverci. Io ripeto quello che ho detto stamattina nella presentazione del Santo di Oggi San Marco, quello che ho detto nella messa stamattina. Proviamo a mettere in programma al mese di maggio la lettura continuata, non di volata, continuata ma con calma del Vangelo di Marco. Come vedete già il mese di maggio si preannuncia come un mese in cui la devozione alla Madonna ci preparerà proprio a vivere molto bene anche i giorni che magari dovremmo passare ancora un po' non nella libertà più assoluta che aspettiamo noi. L'ultimo avviso. Domani la messa è alle 10 e poi lunedì, martedì e mercoledì faremo il triduo in onore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo che festeggeremo il 30 di aprile. Allora probabilmente faremo anche la messa al mattino in streaming proprio perché al termine della messa io farò il triduo in preparazione alla festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Vi auguro buon pomeriggio, come vedete il mio giardino è pieno di sole, il mio giardino ha solo il rumore degli uccellini che cantano e io vivo qui e tra poco passeggiando tirò anche oggi pomeriggio il Santo Rosario. Buon sabato, buona serata, ci vediamo se volete domani alle 10 con la messa.